Dopo 24 ore dall'apertura delle prenotazioni per la fascia tra i 12 e i 19 anni per la Notte Giovane, l'iniziativa promossa dalla Regione Puglia, sono oltre 2.500 i ragazzi pugliesi che hanno aderito. Le sessioni vaccinali notturne organizzate per il 14, 15 e 16 gennaio dedicate proprio all'età scolare si svolgeranno in 34 hub che saranno aperti dalle 20 alle 24, previa prenotazione e scaricando la modulistica da compilare e consegnare. Sono 14 gli hub dell'ASL di Bari che hanno aderito alle aperture straordinarie e serali e a queste si aggiungono le sedi dell'ASL BT, il 14 gennaio a Trani e il 15 gennaio a Barletta e Margherita di Savoia. Le iniziative pugliesi tra le vaccinazioni a scuola in collaborazione con le ASL pediatri e gli open day per i giovani sono state viste come una best practice persino dal ministro all'istruzione Patrizio Bianchi. Stiamo ragionando per portare il più vicino possibile le strutture per la vaccinazione dei ragazzi tra i 12 e i 19 anni sulla base dell'esperienza pugliesi, ha detto il rappresentante del governo. Intanto sul fronte delle altre vaccinazioni nelle ultime 24 ore nell'ASL di Bari sono state somministrate 12.409 dosi di vaccino, di cui quasi 9.000 richiami. La vaccinazione dei piccoli pugliesi tra i 5 e gli 11 anni ha raggiunto invece il 31,8%, raddoppiando la media nazionale. Nella ASL di Bari sono oltre 27.000 i bambini che hanno ricevuto la prima dose. La ASL BT inoltre ha organizzato diverse iniziative per incentivare sia la vaccinazione degli adulti che dei bambini. Oggi si terranno open day pediatrici ad Andrea, Barletta e Biceglie. Sabato 15 gennaio si terrà un open day per adulti dalle 9 alle 12.30 ad Andrea, Barletta, Trani, Biceglie e Canosa e dalle 8.30 alle 13.30 a Margherita di Savoia. Domenica 16 gennaio in ultimo si replica con gli open day pediatrici dalle 9 alle 12.30 ad Andrea, Trani, Biceglie, Canosa e Margherita di Savoia dalle 9 alle 12.30.